Ciao a tutti, oggi cambieremo un pochino gli strumenti del nostro percorso di questa settimana perché apriremo con i tarocchi di Aura Soma, poi passeremo alla carta dell'Angelo Custode che sono le mie carte e di nuovo le piccole carte di Asconto agli Angeli e questo è il manuale che si riferisce a queste carte. La prima carta, a differenza dal solito, punta il dito su una condizione umana che è la condizione della sofferenza infatti esce la carta del maestro Serapis Bey, vedremo poi questa carta che cosa comporta. La carta dell'Angelo Custode ci parla di sincerità e le mie piccole carte degli Angeli parlano di accettazione, comprensione e poi alla fine sorpresi in arrivo. Quindi vediamo in realtà l'universo che cosa ci sta facendo notare. L'universo attraverso la carta dedicata al maestro Serapis Bey ci parla sì di sofferenza quindi succede che ognuno di noi stia attraversando dei momenti di difficoltà dei momenti in cui non è contento di quello che gli succede però il maestro Serapis Bey ci dice che è attraverso la sofferenza che noi poi troviamo la nostra luce quindi è abbastanza normale nel percorso della vita che tutti quanti ci troviamo in momenti di disagio, di malattia, di difficoltà non è che sempre le cose possono andare bene e essere sempre sereni è importante che noi capiamo che anche le sofferenze sono degli ostacoli che la vita ci mette davanti per metterci alla prova per farci capire magari dove abbiamo sbagliato come avremmo potuto fare meglio e di conseguenza poi si va verso la luce la carta dell'angelo custode ci dice bisogna essere sinceri e quindi quando affrontiamo delle prove sviluppare la nostra obiettività la nostra capacità di capire magari anche dove abbiamo sbagliato e perché ci siamo ritrovati un ostacolo davanti a noi infatti la piccola carta dell'angelo custode ci dicono accettazione e comprensione quindi ci dicono guarda che nel momento che sei sincero anche se è un momento di difficoltà è un momento faticoso se accetti entri in una comprensione diversa accetti che stai vivendo un momento difficile e quindi vai oltre perché nel momento che noi l'accettiamo capiamo anche perché la vita ci mette davanti a degli ostacoli e di conseguenza siamo chiamati a superarli e guarda caso l'ultima risposta degli angeli è una risposta consolante perché ci dice sorpresa in arrivo quindi se facciamo bene il nostro percorso se riusciamo a capire quanto è importante per noi a volte anche essere ostacolati nel nostro percorso e siamo però sinceri e analizziamo bene la situazione ecco che alla fine una volta che l'abbiamo accettato siamo pronti anche per accettare dei nuovi doni bene anche per oggi ho finito vi ringrazio di essere con me ricordo che se volete un contatto con me potete scrivermi o visitare il mio sito che scorre qui sotto seguitemi su facebook seguitemi sul clubhouse seguitemi su instagram e soprattutto non dimenticate di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto di cliccare sulla campanella così potete sempre sapere quando posto qualcosa in anteprima bene io spero che anche il percorso di questa settimana sia un grande stimolo per voi e per la vostra crescita in armonia vi auguro una buona settimana tanto amore degli angeli e ci vediamo la prossima settimana con un altro messaggio e un altro permesso grazie a tutti 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 grazie a tutti